rafting sul fiume e vai guarda un po c'è acqua dappertutto altri tronchi signore il mio manuale dice che possiamo usarli per costruire fammi indovinare una zattina che ne dici se invece li usiamo per menarti non mi ricordo più come si faceva a premendo x ok ci saranno i coccodrilli anche in questa zona ovviamente allora dobbiamo stare attenti solamente a quelli rosso e quello grigio quello grigio perché ti insegue quello rosso perché si muove questi qua verdi per lo me e l'ho toccato dicevo quelli verdi perlomeno stanno fermi va bene che palle salite che devi smasciare la x e ci vuole una vita ma poi come fanno a muovere l'intera zattera con un coso fa con un remo fatto di foglie ok qua devo andare nello stesso verso in cui va la il vortice belle ste cascate però allora piano 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 allora uno due no 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 che fate no 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 fermo una cosa alla volta perfetto o fantastico ci mancano gli ai tronchi che mi vengono addosso spero che non non ce ne siano a essi dai ciao ne allora aspetta qui vai vai russell allora aspetta fermo aspetta che passa vai ok sicuramente un checkpoint ce l'abbiamo vai dritto non menare il coccodrillo verde ecco qua tanto tra poco incontriamo quello grigio sicuro è faticoso è fare sta parte devi continuare a premere la x vediamo se la faccio piano funziona uguale se la schiaccio comunque pianino funziona uguale anzi forse funziona anche meglio cacchio anche oggi abbiamo imparato qualcosa di nuovo oh no la scimmia come faccio voi di evitarla allora aspetta aspettiamo che le lancia di nuovo no 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 e no e no e no 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 non è possibile che non ti giri quando uno ti mette un comando e allora vado a cacchio duro e allora vado a cacchio duro rapido niente questo giro è stata colpa mia subito subito di qua vai ok ok ecco ecco io ma ce ne sono due ce ne sono e ho visto un altro e non è possibile che ogni volta ma cosa devo fare il neurochirurgo per girare su un livello della playstation 2 guardalo guarda Vai Accelera Maledizione Guardalo che si blocca Quanto ti si odia Gioco di merda Dai non è possibile Si blocca dove vuole lui Gira come vuole lui Ti mando a fanculo Ecco cosa farò Ti mando una cartolina Da fanculos Una splendida regione Del Kazokistong Allora aspetta 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 Ok Vai L'importante è che non mi ha preso Ok calmo Vai Perfetto E' il coccodrillo grigio che mi ha preoccupato Ecco appunto No No Eh no Eh no Devi virare però Devi virare Devi virare Devi virare Devi virare Parte la facciamo finita Ma poi perché siamo tutti salire sulle rapide Eravamo appena Eh vabbè Mancava solo la scimmiotta Ecco fatto Vabbè questo giro è stato facile Per fortuna Di nuovo i tronchi Allora aspetta Aspetta Vai E i tronchi Sono almeno dei problemi Se hai Un attimo la finestra di tempo Per passare da uno all'altro Ce la fai E il vero problema Sono i coccodrilli Vai Dai Dimmi che siamo arrivati Per favore Ovviamente no Quanto ci manca Non so neanche che giro stiamo facendo In realtà Scusami Siamo tutti salire In cima alla cascata Per quale arcano motivo Alla fine Che stiamo poi scendendo Allora aspetta Che facciamo scendere il tronco Ok Si ferma di qua Quindi se io già mi metto Qua di lato Perfetto Dai Perfetto Siamo vivi Passiamo da questo lato Oh la mia casa Incredibile Allora non è stata distrutta Dalle scimbie Bonobo Eccoci qua Finalmente Ecco la sua casa Sapevo che ce l'avremmo fatta Siamo una squadra fantastica Ma ti odio Stai zitto Hai ragione Grazie Russell Ti prego Fa sì che non ci siano Altre parti come questa Per solo due minuti Se non fosse stato Per gli errori Che abbiamo fatto In realtà ce la facevamo La mazza da golf Finalmente Grazie Grazie